I pubblici esercizi sono una componente essenziale dell'economia dei servizi. Nonostante la crisi, possiamo ancora confermare che il fuoricasa è un asset strategico dell'offerta turistica? Assolutamente sì, e poi certamente la risposta non può che essere di parte, ma al di là della partigianeria, insomma, ribadiamo che il settore del pubblico esercizio ha due grandi valori. Un grande valore economico e un grande valore sociale, perché dietro l'attività del pubblico esercizio si coltivano anche di valori materiali assolutamente importanti. Ma ritornando alla domanda, certamente ha un valore economico, e il valore economico si sviluppa anche su quella che è la parte turistica, perché quello che è l'asse di questo paese e le potenzialità sono collegate a quelle che sono le eccellenze che l'Italia può offrire, e la ristorazione certamente rientra tra queste eccellenze. Difatti il tema dell'enogra astronomia è il secondo motivo per la quale un turista straniero sceglie l'Italia come destinazione della propria vacanza, ed è il primo motivo per la quale vi ritorno. Su queste eccellenze è chiaro che noi spieghiamo che ci sia quella attenzione e quella considerazione anche in termini ovviamente di provvedimenti normativi. Quali sono le variabili da tenere sotto controllo per valutare l'andamento del settore? Certamente il settore dell'economia ha i riferimenti di ogni settore, per cui i dati essenziali sono certamente il dato del fatturato, sono i dati dell'occupazione, su questi versanti certamente è un settore che tiene, perché cresce costantemente la propensione al fuori casa. D'altra parte però ci sono anche dei lati negativi che sono dati certamente dal fronte dell'offerta, dove noi registriamo un eccesso di offerta che sta in certo senso dequalificando il settore e che crea grandi problemi su quella che sono le marginalità delle gestioni, che creano evidentemente difficoltà di quadratura dei bilanci, ma questa è una caratteristica propria nostra anche collegata al fatto che oggi gli effetti della liberalizzazione, dei cambiamenti dei stili di vita ha certamente portato ad un eccesso dell'offerta rispetto a quelli che sono i reali bisogni. Qual è lo scenario attuale rispetto alle nuove tendenze nel settore? Lo scenario attuale è di sofferenza come tutti, anche se, ripeto, è una sofferenza ben gestita, gestita anche con quell'ottimismo che ci vuole per chi fa impresa. Tra l'altro siamo anche assolutamente contenti perché prima ci parlava del turismo, il piano strategico del turismo che il ministro Franceschini sta portando avanti assegna il ruolo dell'enogra in astronomia, un ruolo primario in quello che è l'attività di marketing e di promozione del turismo italiano e a riguardo il premier Renzi proprio in questi giorni sta dichiarando che è necessario allargare quelli che sono i bonus e gli incentivi per investire, per migliorare quello che è il nostro settore. Per cui è uno scenario, certamente con alcune criticità, ma che ha delle caratteristiche, una vivacità, una potenzialità che è assolutamente positiva e che fa comunque ben sperare per il prossimo futuro. Cosa suggerirebbe un titolare di un locale pubblico per differenziare la sua offerta rispetto ai competitor? Beh, certamente è un offerto di qualità e quando parliamo di qualità, che forse è un sostantivo spesso abusato, mi riferisco in modo particolare alla qualità del cibo, alla qualità del servizio, alla qualità dell'ambiente in cui si sviluppa l'attività, anche in termini igienico-sanitari e di attenzione a quello che è il cliente. È chiaro che poi è fondamentale tarare la propria offerta in funzione di quello che è il target di clientela e tarare l'offerta significa impostare la propria offerta in relazione all'ubicazione, in relazione a quello che è il target di clientela di quell'area, cercando ovviamente di differenziarsi rispetto ad una concorrenza che, come dicevamo prima, è certamente numerosa, aggressiva e assolutamente competitiva. Ritiene che l'intrattenimento televisivo, in particolare i contenuti sportivi esclusivi Sky, siano un'opportunità per dare un migliore posizionamento dei locali pubblici, per attrarre e fidelizzare i clienti? Lo sport, come il cibo, si mangia meglio insieme, per cui entrambi hanno la caratteristica della convivialità, dello stare insieme nel coltivare le passioni, sia sul cibo, sia sullo sport o su queste cose, per cui, certamente, quella che è la diffusione dello sport all'interno del pubblico esercizio può essere uno di quegli elementi di rafforzare, di migliorare quello che è la qualità e il servizio offerto alla nostra clientela. E su questo, certamente, i canali Sky offrono tantissime possibilità dallo sport alla cultura e in altre direzioni. È chiaro che, rispetto al passato, molte cose sono state fatte, altre se ne possono fare, certamente è un discorso di costi e di convenienze, ma questo è un versante che va coltivato, perché oggi c'è bisogno, insomma, di fertilizzare, di coltivitare, di stimolare il consumo in ogni occasione, anche offrendo dei servizi particolari, come possono essere i servizi televisivi, soprattutto se è la qualità che si registra i Sky, ma lo dico assolutamente in buona fede e consapevole dell'affermazione.